Quindi Zaghi resta l'Inter fino al? Stiamo parlando, secondo me rimane fino all'Inter nel 2037, va bene il 2037, il decennale. Siamo solo al Ministro, comunque c'è la buona volontà da parte di tutti, quindi c'è da lavorare. Un primo incontro? Sempre positivo, guarda la divisa. Vi siete dati una tempistica? Tempistica no, nel senso che ci sentiremo. Adesso è appena cambiata la proprietà, quindi anche loro devono prendere conti. A Udero resta invece? A Udero hanno un riscatto, entro il 14 mi sembra, può darsi. Vediamo. Scalbini l'ha sentito come è stato dal punto di vista? L'operazione è stata andata benissimo, adesso deve rimanere un mese a Roma per la rieducazione. Purtroppo non ci voleva, ma è un ragazzo talmente speciale che riesce comunque a gestire anche queste cose nel migliore dei modi. Viste le grandi prestazioni di Bastoni, c'è stato qualche interessamento dalle PDS. Ma Bastoni ha un contratto di 4 anni all'Inter, e poi c'è la maglietta... Quindi... La divisa è come è. Bravo! Come è. Quindi siamo tutti interesti, dai. Quindi ci vuoi dire solo quando più o meno li ti vedrete? Non lo so, non lo so. L'ho già detto? Non lo so. Vedremo. Anche loro hanno il tempo. Quindi... Grazie. Buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.